Siamo qui finalmente con Cristian Tropea, ciao Cristian, benvenuto a tutti. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Bene, allora prima di entrare nel vivo di questo episodio con Cristian dove parleremo della storia della lingua italiana come avete letto dal titolo di questo incontro, vi dico brevemente chi è Cristian. Ecco, leggo. Offerte dalle altre lingue ha scoperto la bellezza della lingua e della letteratura italiana. Nato e cresciuto nella provincia di Milano, vive da più di nove anni a Yekaterinburg in Russia, dove si dedica con tanta passione ai propri studenti e alla costruzione di una comunità di persone che parlano italiano, che lui definisce famiglia. Che bella. È una famiglia. Eh sì, è proprio una famiglia. Per me è molto importante che le persone sentano la lingua e quindi spingo moltissimo tutti i miei studenti, ma anche non solo i miei studenti, ma anche le persone che mi fermano per strada parlandomi in italiano. Perché magari succede con Lidia che facciamo una lezione camminata e la gente ci ferma a volte e ci chiede ma scusate ma state parlando italiano? Sì, ma sapete io studio italiano all'Università degli Urali e vieni allora, ma io ho paura perché è il mio livello e dico magari è una famiglia, vieni nella famiglia e in effetti ogni volta che le persone, delle persone nuove vengono, io ovviamente sto molto attento alle persone nuove e dico sempre non vi preoccupate, vi aiuto io e dico benvenuto nella famiglia. Chi entra nella famiglia, dalla famiglia non esce. Esatto. Stavo pensando alla stessa cosa. È incredibile, è una magia perché è bello vedere, adesso poi cominciamo con il tema però volevo dire che ragazzi che abitate in tutto il mondo cercate sempre degli speaking club o dei posti dove si giochi in italiano, perché è vero la lezione è bellissima e funziona ma c'è un piccolissimo dettaglio da considerare. Secondo me per uno studente ci sono tre livelli di comunicazione, la comunicazione verso l'alto, in su, che è quella che fai con l'insegnante, quindi con una persona con più autorità di te, che se l'insegnante sbaglia sarà rarissimo che tu doveva dire no, scusa Giulia, guarda che hai sbagliato. Nessuno ha il coraggio di farlo, a meno che non sia uno studente di livello C2 e mi è successo. Cristian perché non è stato il congiuntivo? Vabbè mi è scivolato, ok. Poi c'è la comunicazione a livello 1 a 1, quella orizzontale, dove la persona parla con dei suoi simili. Cioè se una persona a livello B1 parla con altre persone di livello B1 e questo è interessante per vedere dove io posso essere un po' più bravo, dove l'altro è un po' più bravo, è interessante anche per l'ispirazione, eccetera. E poi c'è la comunicazione verso il basso, perché inevitabilmente in questi gruppi c'è sempre una persona che parla peggio di voi. E anche questo è molto importante per capire, ma allora non sono così terribile? E soprattutto potete aiutare l'altra persona, potete fare voi da ispirazione. E questo mette, come dire, carburante, mette benzina nel vostro motore e avete più voglia di studiare. Per quello chi entra nella famiglia non esce. Esatto. Perché? Perché ci sta bene. E dovete vedere perché questa settimana, la settimana scorsa, c'è stato il Festival del Cinema Italiano. Sold out, sempre, tutto esaurito, sempre. È una cosa incredibile, era impossibile trovare i biglietti praticamente. Questa è una cosa bellissima. Sì, anche qui c'è stato qualche mese fa, è stessa cosa. Difficilissimo prenotare. Bellissimo. Bellissimo. È una cosa, ti riempie di orgoglio in effetti. Sì. Vabbè, io ho partecipato in minima parte, però gli altri vengono. Di tutte le età, è bellissimo. Sì, sì, però c'ero, c'ero, c'ero. No, no, guarda, quello che dici è assolutamente vero, sono d'accordo. Ma anche quello che dici nella tua presentazione, che ogni volta che parliamo una lingua straniera noi indossiamo una personalità ed è un modo anche per giocare, per provare, no? A fare cose diverse, è proprio bello. Cioè, per me è come una collezione di camice praticamente. Oggi faccio questo. Molto spesso mi capita di pensare in inglese quando ho fretta. Perché per me l'inglese è la tuta da lavoro, come dire, dai, via, veloce, dai, metti su. Cosa mettiamo? Mettiamo l'inglese. Sì, perché puoi dire le cose in poche parole. Sì, sì. E a volte poi magari mentre parlo in italiano sei lì, pochettino. Succede anche a me questo, parlando la mia lingua quando sei abbastanza avanzato in un'altra lingua che comincerai ad avere problemi con la tua lingua e gli dovremmo essere felici. Perché vuol dire che abbiamo, secondo me, qualsiasi lingua che studiamo dovrebbe diventare come la tuta di Spider-Man. Cioè, il problema è questo. Se Spider-Man va a saltare tra i palazzi con la pelliccia, la vedo un po' dura come cosa. È meglio che si metta la tuta quella molto aderente. Ecco, la lingua deve aderire. E qua parliamo di italiano e di viaggio fantastico. Sì. Che lo è, lo è. Cominciamo un pochettino dicendo. Allora, da dove arriva l'italiano? Sì. E qua c'è una mamma tossica tra noi, che è latino. È la mamma tossica. Perché è quella mamma da cui non riusciamo a staccarci. E quando proviamo a staccarci è lei che ritorna e dice dove vai? Perché mi stai lasciando? Prima di tutto cerchiamo di capire che cos'è una lingua. Una lingua è uno strumento di comunicazione. Che suoni bene, che suoni male, deve funzionare per la comunicazione tra due o più persone. Ecco, questa è la cosa più importante di tutti. Se dimentichiamo questo, non parliamo più. Stiamo parlando con il muro. E allora, nell'impero romano, ovviamente noi conosciamo il latino classico, quello di Virgilio, quello di Cicerone. Wow, che bello. Ma attenzione perché anche Cicerone in realtà, nonostante usasse il classico, non parlava esattamente così. Ci troviamo in una situazione dove c'era un latino molto formale e un latino tuta da lavoro. Stiamo all'inglese. Ecco, questo latino tuta da lavoro già cominciava a cambiare. E ci sono delle cose interessanti. Perché nel latino comincia, nel tardo latino, comincia per esempio a sparire un genere. Non c'è più il neutro. C'è il maschile e c'è il femminile. E il neutro non c'è più. E questo lo notiamo in italiano, in francese, in spagnolo, portoghese, romeno. Il neutro non esiste. Ecco, è una cosa interessante. Tra parentesi, molti studenti hanno il problema di pensare ma perché un uovo due uova? Certo. Lo sapete perché? Perché in latino uovo, ovum, era un neutro. Però poi al plurale ovum faceva ova. Problema, quando noi togliamo il neutro, ovum si trasforma in ovo. Ovo, finisci in o. E via. E' maschio. Va bene. Eh sì, è maschio, ma ova? E se è a è femminile. E' successa questa roba un po' strana. molti neutrali in realtà si sono spostati nel maschile. Altri molto famosi che non potevano cambiare molto facilmente, tipo le parti del corpo, uovo, nel suolo, sono rimasti in questo limbo. Per poi parlare di Dante. Sono rimasti in questo limbo. L'italiano quindi in realtà nasce già insieme al latino. Cioè è un prolungamento del latino. Non possiamo dire che sia arrivato dopo. È solo... L'impero latino, l'impero romano era enorme. E ovviamente dobbiamo ricordare che a differenza di oggi, dove noi leggiamo tutti quanti, lì la gente non sapeva leggere e non sapeva scrivere. E quindi a seconda del territorio si parlavano dei tipi di romano, di latino molto diversi. E quindi ecco da dove arrivano il francese e l'italiano, eccetera. Soltanto da uno, possiamo dire, uno sfilacciamento, scusate questa parola un po' difficile, no? Quando si rovina a poco a poco questo latino e si arriva alle lingue poi che abbiamo oggi. La situazione strana è quella dell'Italia e della Francia. La Francia già nell'Ottocento dopo Cristo, Carlo Magno abbiamo studiato, c'è un impero praticamente, c'è un regno dove il re dice signori si parla questa lingua. Stop! Tanto che se tu vai in Francia e vai alla ricerca dei dialetti ne troverai pochissimi. Esatto. Gli rimane qualcosa del provenzale, qualcosa del borgognone, qualcosa del nord. Finito, avremo tre, quattro dialetti, poca roba. L'Italia è interessante perché comincia a avere questa lingua volgare, volgare non che dicevano le parolacce ovviamente, volgare perché era del volgo del popolo, ma lo Stato italiano non esisteva. Cioè sì, abbiamo avuto delle unificazioni, per esempio durante Carlo Magno, poi con i Longobardi nell'anno 1000, ma non si parlava di Italia, si parlava di impero Longobardo. è un'altra cosa, assolutamente. Però questo italiano più o meno si parlava e infatti già prima dell'anno 1000 abbiamo delle tracce della lingua italiana, più o meno come la conosciamo adesso. Ma perché? Perché hanno scritto in italiano, scusate c'era il latino, eh no, eh no. i problemi erano problemi in tribunale, i problemi erano problemi di terra. C'era questo nobile, questa persona quindi ricca, che diceva questa terra è mia. E i monaci che invece lavoravano già questa terra da tempo, dicevano no bello mio, questa terra è mia. e c'era questa legge già durante l'impero Longobardo dell'uso capione. Cos'è l'uso capione? Cioè, se tu lavori su una terra per 20 anni e nessuno viene a chiederti questa terra, la terra diventa tua. Esatto. E allora c'era bisogno di andare in tribunale e dire signori, questa terra è dei monaci. e allora ecco che ci troviamo i placiti capuani. Eccoli. E abbiamo proprio scritti da un notaio queste cose e adesso, attenzione, i placiti capuani non potevano essere in latino perché i placiti capuani quindi in un tribunale dove c'erano persone anche normali, contadini, persone che non sapevano né leggere né scrivere che il latino non lo sapevano, e serviva una lingua che capissero tutti. Ed eccola qua, guardate, con un po' di fantasia se sapete l'italiano saoco che le terre so che quelle terre perché le fini che chi contiene per quei confini che li contengono 30 anni le possiede parte Santi Benedicti. Ecco qua, 30 anni sono state possedute dalla parte, la parte perché avevamo due parti, San Benedetto da una parte e il nobile dall'altra che diceva no, lo voglio io. Quindi vedete che in effetti questa testimonianza ha anche tutti i crismi del tribunale, proprio del giudiziario. Parte Santi Benedicti. Ecco, siamo nel 960 dopo Cristo. altri per esempio saoco che le terre perché le fini che te demonstrai per gualdi foro che chi contene e 30 anni le possette. Ecco, in questo caso l'altra parte ed ecco, sì, erano di per gualdo, è vero, e per 30 anni le ha possedute. E si continua con queste testimonianze che per noi sono molto importanti perché era molto difficile trovare delle tracce dell'italiano. In effetti in quel periodo era difficile trovare qualsiasi tracce. In generale però quando parliamo di letteratura si usava il latino. Ovviamente. Il latino era una lingua troppo prestigiosa per l'italiano. Cioè l'italiano era buono solo per queste cose molto pratiche mondane di questo mondo diciamo. e infatti la Chiesa Cattolica ha usato il latino per le messe fino all'altro ieri. Sì. Perché non era considerato all'altezza. Questo complesso di inferiorità dell'italiano o questo forse snobbismo verso l'italiano in realtà ha fatto bene. Secondo me. Allora quindi da adesso in poi consideriamo questa tossicità della mamma latina eh. Perché da qui noi continueremo con questa cosa. Il latino ci seguirà sempre e dall'altra parte anche il francese però ci seguirà sempre. Noi Giulia come va con i francesi? ma è la lingua o le persone? Le persone dai. Le persone ma simpatici sì ok. In generale però negli stereotipi gli italiani e i francesi non si amano. Non troppo. io non voglio parlare come insegnante di francese perché in effetti preferisco insegnare l'inglese e l'italiano sono più bravo. Il francese ha l'occorrenza diciamo ovviamente c'è questa c'è questo dualismo tra italiano e francese ma il francese ci ha portato tantissimo. e allora possiamo passare al prossimo alla prossima tappa del nostro viaggio e passiamo al 1200 circa i poeti siciliani e l'audico siciliano. Allora mi viene un po' da ridere perché se una persona non lo sa e gli dici ma guarda che l'italiano la letteratura italiana si sviluppa in Sicilia ma come in Sicilia ma i siciliani fino all'altro ieri non parlavano italiano ancora parlano in dialetto molti e invece no signori ma da dove arriva questa scuola siciliana innanzitutto per avere una scuola servono i soldi soldi i soldi lo sappiamo bene ma chi ce li metteva i soldi lo sponsor di questa scuola era Federico secondo niente di meno che Federico secondo imperatore di Svevia quindi di Germania che aveva conquistato anche la Sicilia adesso a Federico secondo le temperature tedesche Giulia ne sa qualcosa visto che lì è inverno da te esatto non piacevano molto Federico secondo si era trasferito a Palermo e abitava a Palermo il centro del mondo in quel momento era la Sicilia ma perché questi si mettono in testa di non usare il latino o non usare il tedesco visto che Federico secondo era tedesco e usare il siciliano beh torniamo ai nostri amici francesi da loro c'era questa tradizione dei fablieux i fablieux erano questi cantautori Fabrizio di Andrè che andavano in giro a cantare andavano in giro per i castelli a cantare canzoni di amore in provenzale e questa cosa piaceva erano i manes in praticamente del tempo e cosa succede quando i Beatles facciamo i Beatles del tempo dopo i Beatles ci tornamo quando una band è molto famosa che cosa succede? si fanno le cover e si comincia a coverizzare però attenzione si deve per un pubblico che non sa né leggere né scrivere bisogna fare le cover ma se tu arrivi nel 1200 e fai una cover in inglese e ancora oggi in effetti quando fai una cover in inglese tutti cantano va bene esatto tanto va bene così popopopopopo e via e va bene così bisognava adattare il testo come succedeva molto spesso anche cento anni fa si adattavano i testi tanto che a un certo punto non si sapeva più se l'originale fosse inglese o se l'originale fosse italiano e allora ecco qua che ci troviamo con questa cover più o meno Jacopo Dalentini ci scrive questa amor è un odesio che viene da core per abbondanza di gran piacimento e gli occhi in prima generano l'amore e lo core gli dà nutricamento bene alcuna fiata o mamatore senza vedere son amoramento ma quell'amore che stringe con furore dalla vista degli occhi a nascimento che gli occhi rappresentano allo core d'ogni cosa che vedon buono e rio com'è formata natural e mente naturalmente e lo core che di zoo è concepitore immagina e piace quel desio e questo amore regna fra la gente abbiamo un sonetto in realtà vediamo che quindi già si comincia a utilizzare il sonetto che poi troveremo da un'altra parte allora cosa succede alla scuola siciliana la scuola siciliana ovviamente con tutti questi finanziamenti con questa major label diciamo che paga diventa famosa e diventa famosa anche su quello che i siciliani chiamano sul continente quindi comincia a essere importata in Toscana un'altra corte dove ci sono i soldi è la Toscana e si cominciano a importare sia dalla Provenza sia dalla Sicilia questi materiali ecco qua bellissimo per fortuna ci sono le cover ma per fortuna eh sì perché intanto in Provenza questi fablieux avevano cominciato a essere perseguitati perché la corte francese non voleva che si parlasse il Provenzale da una parte dall'altra in Sicilia muore Federico II comincia una fase di crisi di questa scuola siciliana uno perché non c'erano i soldi due perché le idee cominciavano a finire cioè non puoi sempre fare lo stesso prodotto eh sì dopo un po' dopo un po' o ci si annoia cioè uno si annoia o il pubblico si annoia eh sì la noia arriva la noia e ragazzi qua visto che ci siamo un pochettino in treccio la noia è uno strumento fondamentale per l'evoluzione non dobbiamo avere paura della noia ma la noia è uno strumento e quando voi avete studiato per 15 volte la stessa frase vi state annoiando vuol dire che va tutto bene e siete pronti ad andare oltre va bene e si è pronti ad andare oltre e allora come una pianta che vive sempre nello stesso terreno prima o poi finiscono i nutrienti e la pianta rischia di morire e allora noi cosa facciamo prendiamo la pianta e la spostiamo in un altro territorio e questo quindi questa poesia siciliana la trapiantiamo in un altro territorio in Toscana dove ci sono tantissimi nutrienti diversi e allora si cambia la pianta cambia le sue caratteristiche e andiamo quindi e andiamo andiamo al prossimo capitolo e ovviamente non si può parlare di lingua italiana senza pensare a lui al sommo poeta no? forza al nostro al nostro Dante quindi dice un pochino come si inserisce in questo viaggio e chi gli fa compagnia quando parliamo delle tre corone fiorentine che non so se chi ci ascolta ha mai sentito no? le tre corone fiorentine appunto Dante Petrarca e Boccaccio allora Dante Dante quindi in realtà non è il primo che arriva a fare queste cose non è l'unico a fare queste cose ma Dante è stato molto bravo a prendere a allora torniamo un attimo alla mamma tossica sempre in latino sempre lì siamo intanto ragazzi non ne veniamo fuori da questa storia nel latino nella composizione latina classica si usavano tanti elementi che nel medioevo non venivano consigliati e Dante è stato bravo a riprendere questi elementi quindi praticamente ha preso una struttura classica e Petrarca ha fatto la stessa cosa perché in realtà Petrarca era un grandissimo amante di Virgilio per esempio e della poesia classica cosa hanno fatto le tre corone fiorentine forse Boccaccio un pochettino meno Boccaccio è stato grande per un altro motivo adesso poco te lo dico loro sono stati bravi a elevare il volgare fiorentino ha qualcosa di più ha una lingua che potesse fare da concorrente al latino Dante è stato bravo a raccogliere a catalogare cioè praticamente è stato il primo a fare una specie di vocabolario lui andava selezionando facendo una collezione di parole belle giuste per quel contesto che non erano necessariamente fiorentine qui infatti si parla di volgare fiorentino aperto se la parola suonava meglio o era più efficace in latino lui la prendeva dal latino se la parola era più efficace in siciliano lui la andava a prendere dal siciliano e quindi questa è la cosa interessante come Dante abbia fatto una collezione e questo cari studenti fate anche voi una collezione delle parole fate una collezione delle strutture le dovete esibire queste strutture quando voi imparate una struttura nuova non dovete fare adesso da questo da dove cavolo arriva perché l'imperfetto avevo già il passato prossimo andavo bene aggiungi alla collezione e così c'è aggiungi alla collezione basta un giorno arriverà il momento in cui le potrai esibire e Dante è arrivato il momento in cui le poteva esibire e ovviamente poi ha fatto tanto Dante ha anche scritto per esempio il De vulgaria eloquenzia in latino dicendo quanto sia importante la lingua volgare è andato praticamente contro tutti Dante è stato coraggiosissimo su questo non ci sono dubbi ovviamente le fonti che abbiamo non sono tante quindi bisogna capire secondo me c'era un gran fermento anche tra i poeti minori tra gli scrittori minori quindi tantissimi scrivevano in volgare in quel momento e quindi Dante è riuscito a cogliere Dante è stato bravo a diventare famoso sì a portare in giro tutto questo Dante ha reso famosa sicuramente la sua struttura per esempio nella Divina Commedia la Terzina la Terzina con rima incatenata queste almeno tra i grandi non c'era prima nel Medioevo questa cosa non si vedeva ecco Dante è stato bravo a portare tutto questo ma Dante è stato anche bravo a riprendere a rispolverare togliere la polvere da alcune cose del latino della composizione latina per esempio la similitudine nel Medioevo sconsigliavano l'uso della similitudine Dante ha preso questo consiglio del Medioevo e l'ha buttato nella spazzatura nella sua Divina Commedia ha fatto circa 500 similitudini quindi le ha prese e le ha estremizzate questo perché perché c'era il bisogno comunque di avere una relazione con la mamma latina non si poteva andare in controtendenza e basta andare in controtendenza era un suicidio perché chi sapeva leggere era gente che parlava il latino quindi bisognava comunque rapportarsi a queste persone poi allora se prendiamo Petrarca quindi Petrarca invece è poeta ok Petrarca invece era legato molto allo stile classico del latino quindi lui ha portato il soneto ok Petrarca è interessante anche per alcuni temi Petrarca era un simbolista di questa cosa allora lui parla di Laura ma Petrarca ha dettato i canoni le basi e la poesia italiana ecco Petrarca si rifiutava di usare i nomi propri di persona cioè Giulia non ti avrebbe chiamata Giulia non avrebbe scritto se avesse fatto un sonetto su di te non avrebbe scritto Giulia ma allora perché Laura sì perché l'amava ma no ma no in realtà Laura potrebbe essere L apostrofo aura quindi si parla di Dio di ispirazione divina oppure Laura potrebbe venire da all'oro quindi la grazia e allora vedete Petrarca va sempre letto due o tre volte cercando di capire ma cosa vuole dire perché in effetti invece di parlare dei denti lui parla di perle perché denti era era troppo terra terra si dice terra terra per dire una cosa quindi troppo vicina a noi non andava bene ecco Petrarca ha elevato l'italiano ancora più in alto ha detto vedete cosa può fare il mio toscano fiorentino può tranquillamente rapportarsi a Virgilio non c'è problema e poi Boccaccio 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 è letteratura mainstream perché Boccaccio Boccaccio è nel sud de Cameron allora Boccaccio dove vive dove cresce Boccaccio vive tra i mercanti Boccaccio non è come Petrarca o Dante che sono persone tipo della della nobiltà o della borghesia no no lui cresce tra i mercanti tra le cose di questo mondo e allora lui scrive questo romanzo satirico erotico erotico di queste persone che si chiudono scampano via dalla peste e si chiudono in una casa in campagna a parlare a parlare poi questa in realtà questo tipo di idea c'era già perché alla fine cioè Chaucer aveva fatto la stessa cosa in Inghilterra però non con queste cose eroti perché siamo nella Firenze del Trecento e attenzione quando noi pensiamo al Medioevo pensiamo sempre eh vabbè ma c'era la religione cattolica e allora non si poteva no 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 attenzione nel Trecento si parlava di sesso senza problemi su questo io vi posso vi posso invitare ad ascoltare su Youtube una lezione sulla sessualità del professor Barbero che è ragazza ah sì bellissima bellissima e lui diceva guardate che si parlava tranquillamente di sessualità di omosessualità tranquillamente se ne parlava si scherzava su questa cosa e in effetti quindi così allora Petrarca con il suo amore per il classicismo però ispira quello che sarà l'umanesimo del Quattrocento e sapete un viaggio non è interessante se non ci sono degli imprevisti e gli imprevisti ci sono certo che ci sono cosa succede nel Quattrocento si decide di lasciare questa tendenza che c'era scrivere in vulgare Fiorentina e si ritorna al latino si ritorna al latino la gente si rifiuta di scrivere sì vabbè quelli hanno fatto così vabbè fa niente e così continua per tutto il Quindicesimo secolo fino ad arrivare al Cinquecento aspetta però sì prima di andare al Cinquecento sì fermiamoci un attimo regoliamo ai nostri ascoltatori un pettettino di Dante eh va bene che sia ok allora anche Dante scriveva poesie ovviamente e questa me la leggo io però perché ci tengo particolarmente questa poesia è probabilmente la mia poesia preferita ragazzi e beh come fa a non esserlo bellissimo è così romantica allora anche Petrarca è così romantico però leggere Petrarca ragazzi è un pochettino difficile sì sono d'accordo leggere Dante gioco un po' in casa è un po' più facile devo dire e allora tanto gentile e tanto onesta pare prima di tutto ricordiamo una cosa nel nei secoli precedenti non c'era l'abitudine di dare un titolo si titolava sempre con la prima ma la prima riga era così facile perché uno deve perdere tempo a scegliere un titolo e via allora qua abbiamo un sonetto sonetto classico proprio con vediamo stile di rima A B B A quindi la rima specchio praticamente bellissima e allora guardate qua tanto gentile e tanto onesta pare la donna la donna quando ella altrui saluta con ogni lingua di ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella si va sentendosi laudare benignamente ed umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al core che intender non la può chi non la prova e par che dalle sue labbia si muova uno spirito suave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira Dante allora innanzitutto dobbiamo ricordare che quasi viene da piangere veramente quasi la commozione arriva al naturale allora ricordiamo che la poesia è sempre mossa da un grande da una grande sensazione da un gran sentimento e Dante e Petrarca sono mosti da sentimento di amore non corrisposto ok Dante ama una donna che è già sposata Petrarca ama una donna che muore nel 1348 durante la grande peste e la poesia è fatta di sofferenza uno dice ma perché uno deve soffrire durante la poesia perché la sofferenza è un'emozione e va riconosciuta non si può dire sei un uomo non puoi piangere questo non è del poeta un poeta si innamora almeno cento volte all'anno e piange trecento volte e così deve essere così per vedere qua l'inizio della divina commedia allora l'inizio e la fine della divina commedia sono un po' diversi in termini linguistici l'inizio della divina commedia l'inferno è molto vicino al fiorentino del tempo mentre il paradiso è il paradiso bisogna elevare la lingua bisogna fare concorrenza al latino e allora Dante cosa fa? importa dal latino in quel caso giustamente se devo fare concorrenza al latino cosa faccio? lo copio va bene così e invece qua abbiamo proprio l'inizio della divina commedia con l'inferno Giulia ce lo vuoi leggere tu? vado vai nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita ah e quanto a dire qual era eh è cosa dura è così dura è difficile etta selva selvaggia e aspre forte che nel pensier rinova la paura tante amara che poco è più morte ma per trattare del bel chi vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorte io non so per ridire come vi intrai tante pieni di sonno a quel punto che la verace via abbandonai perfetto grazie che meraviglia vedete la rima qua vita smarrita dura paura oscura dura ovviamente vedete come si incatenano vita smarrita oscura dura forte morte abbiamo detto oscura dura paura vedete è bellissima questa cosa io ti invito se volete provate anche voi a scrivere una cosa del genere eh sì guardate a b a ok e poi b e poi cosa succede però c b c d d ok e poi si incatela sembra quasi per chi sa fare sapete che in Russia molte persone ricamano e sembra quasi di fare il punto sì sì sembra proprio di sembra come ricamare un ricamo veramente quindi voi pensate adesso di scrivere tutte queste terzine poverino Dante quanto tempo ci ha messo a fare tutto questo lavoro eh e come finisce poi il paradiso il paradiso finisce in modo diverso qual è il geometra 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 che tutto s'affigge per misurare lo cerchio e non ritrova pensando quel principio ondelli indige talera io a quella vista nova veder voleva come si convenne li mago al cerchio e come vi sindova ma non erano da ciò le proprie penne se non che la mia mente fu percossa da un fulgore che in sua voglia venne all'alta fantasia cui mancò possa ma già volgeva il mio disio e il velle sì come rota chi ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle come vediamo l'inizio l'inferno di Dante con un po' di fantasia lo possiamo anche capire il paradiso le parole sono molto diverse ci sono un po' di parole siciliane desia per esempio ok ci sono parole latine c'è indige eccetera c'è di tutto qua perché in questo caso Dante voleva far capire che con questo tipo di lingua si poteva fare tutto guardate che la lingua è valida eh vabbè ma è solo buona per fare vedete il placito capuano per fare soltanto il tribunale no 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 lui voleva dire va bene per tutto guardate quindi la vita di Dante è stata dedicata alla dimostrazione prima alla costruzione dell'italiana poi la dimostrazione di come questo prodotto funzionasse c'è come un bravissimo venditore Dante grazie Dante poi le sorti politiche l'hanno portato in giro per l'Italia perché ovviamente quella Firenze ogni tot anni c'era una qualche rivolta rivoluzione eccetera Dante all'inizio aveva anche indovinato dove mettersi con i guelfi poi si era messo però quei guelfi bianchi che erano moderati e invece hanno vinto quelli estremi quindi l'hanno mandato via dalla città quindi è andato a Ferrara girato eccetera e così in effetti ha portato il suo prodotto in giro per l'Italia e la gente ha cominciato a crederci se non si fosse diffusa così questo pellegrinaggio della lingua italiana magari non ci sarebbe stata la lingua italiana come l'avremmo immaginata esatto e quindi